Questa mattina presso la Regione Marche è stato firmato il protocollo d'intesa tra Regione e Comune di Fano per dare il via alla realizzazione della ciclovia del metauro e dei tratti della ciclovia adriatica che interessano il territorio fanese. Un nuovo modello nella concezione delle ciclovie della Regione, una ciclovia del divertimento, una ciclovia turistica ma anche una ciclovia urbana con forti elementi identitari per la città di Fano che uniranno il mare al centro storico, il centro storico al grande parco urbano su cui sta lavorando la città di Fano ma anche al quartiere più popoloso della città ossia il quartiere di Sant'Orso. Saremo in grado quindi di soddisfare diverse esigenze ponendo al centro delle interconnessioni ciclabili proprio questa ciclovia. Un'infrastruttura importante per la nostra città ma mi viene da dire per il territorio perché collega una serie di piste ciclabili, collega quartieri della nostra città ma soprattutto valorizza anche tutta una serie di infrastrutture e di spazi anche belli ambientalmente parlando come il nuovo parco dell'aeroporto nella nostra città. Quindi una bella giornata che si lega anche con la ciclovia dell'Adriatico perché questo protocollo prevede anche la progettazione e in futuro la realizzazione anche di un ponte ciclabile che attraverserà anche il Metauro.